Mentre attende il parere dell'Avvocatura dello Stato, il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio torna sul tema delle presunte irregolarità della gara vinta ad Arcelor Mittal per la gestione dell'Ilva di Taranto, annunciando che nel caso la gara dovesse essere annullata c'è un piano B. Se la legge sottolinea Di Maio mi dice che devo annullare la gara, allora lo affronteremo, c'è un piano B, certo, ma non ve lo dico, affronteremo al meglio questa vicenda. Il Ministro dello Sviluppo Economico ribadisce poi ancora una volta che bisogna aspettare il parere dell'Avvocatura, ma intanto dice ci lavorerò tutto agosto, non voglio fare un altro decreto Ilva per farla continuare a girare a spese dei cittadini. Si tratta, spiega ancora, di un macello che stiamo gestendo in tempi record. Dopo sei anni di rinvii, l'ex Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda mi ha lasciato una gara fatta male e 4.000 persone in mezzo alla strada. Sul piano di gestione di Arcelor Mittal interviene anche il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. La tutela dell'ambiente insieme a quella sanitaria e del lavoratore pongono tre elementi, spiega Costa. Possiamo aspettare che il polverone che aggredisce Taranto possa essere bonificato nel 2023? Io posto questi tre elementi chiedendo che Mittal dia delle risposte in materia.